Ogni parola, ogni canto, ogni silenzio è un invito all'ascolto di Dio. Dal Santuario Santissimo Salvatore di Andrea vivi con noi l'ufficio delle letture, della liturgia, delle ore. Un momento di meditazione dove la luce della fede illumina le tenebre del mondo. Per ogni sabato delle quattro settimane di avvento, seguici in diretta per pregare insieme e custodire l'attesa del nuovo giorno. Grazie a tutti.